Faccio fatica a commentare le parole del sindaco di Lampedusa, è un'interpretazione molto strumentale delle parole di Salvini. Io questa mattina mi accorgo di questo, che c'è il Partito Democratico che dice non bisogna farli partire, il nuovo centrodestra che dice bisogna fare dei campi profughi là con l'aiuto e il coordinamento dell'ONU. Sono esattamente le cose che noi dicevamo un anno e mezzo fa. Basta prendersi i nostri interventi in Parlamento o i comunicati stampa che facevamo. Per noi quella era la soluzione. Voi avete fatto una scelta diversa da un anno in mezzo a questa parte. Avete fatto una scelta di fare prima un'operazione che dal mio punto di vista... No, 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 guardate, mi fate finire, io vi ho lasciato parlare. Allora, voi non potete strumentalizzare il fatto che con alcune operazioni salvate delle vite umane, perché tante ne salvate, quante ne avete perse con quelle operazioni, l'unico mezzo di salvezza di vita umane è non farle partire. Allora, se stamattina, dopo un anno e mezzo, abbiamo sentito che il Partito Democratico è d'accordo con quello che noi dicevamo un anno e mezzo fa, io vi dico che abbiamo un problema, ed è un problema interno molto grave, io lo ritengo molto grave. Il problema interno è quello che quando queste persone vengono salvate ed accolte non vengono tra virgolette differenziate tra profughi e non profughi. E a tutti viene dato lo stesso identico trattamento, che è un trattamento privilegiato rispetto agli italiani che sono senza lavoro e dalla povera gente. E continuo a ribadirlo questa cosa. Voi avete fatto una scelta ben precisa, non differenziate tra profughi e persone che vengono qui per altri motivi, ma li trattate molto meglio di quanto trattate gli italiani senza lavoro. E questo è la scelta che avete fatto voi, favorendo il business dell'immigrazione, che va avanti da un anno e mezzo. Ma ripetete tre aspetti. Sì, un attimo, Guidesi, voglio chiederle una cosa. Per come va configurandosi questa nuova strategia europea, che poi vediamo come e in che punti sarà varata giovedì, le piace, la convince? C'è qualcosa che vi sta bene? Mi inconvincerà il decisionismo che ad oggi non c'è stato. C'è stato un atteggiamento menefreghista da parte dell'Unione Europea, un atteggiamento menefreghista che io ritengo anche dovuto all'atteggiamento del governo italiano. Affinché non ci sarà una scelta decisa rispetto al fatto di non fare partire queste persone e di aiutarle là, difficilmente ci sarà una soluzione a questa situazione.